Discepoli di Cristo, discepoli missionari è il motto della visita di Francesco in Thailandia, prima tappa di un viaggio che dal 19 al 26 novembre lo porterà anche in Giappone. La partenza nella serata di martedì 19 novembre, poco più di 11 ore di volo per atterrare Bangkok. Il giorno dopo gli incontri istituzionali alla Government House e nella stessa giornata la visita al Patriarca Supremo dei Buddisti in uno dei templi più noti della capitale thailandese, prima della sosta al St. Louis Hospital per abbracciare malati e persone disabili. Francesco incontrerà anche il discussore Rama X prima di celebrare la messa nello Stadio Nazionale. Venerdì 22 novembre tutto dedicato alla chiesa Thai, appuntamenti con sacerdoti, religiosi, vescovi e giovani. Unica eccezione è l'incontro con i leader cristiani e di altre religioni. Sabato 23 novembre lo spostamento a Tokyo, proteggere ogni vita il tema della seconda tappa legato alla laudato sia e ai temi ambientali. Nel paese delle tragedie atomiche e dei disastri nucleari. Nagasaki e Hiroshima, le città martiri, lo vedranno pregare e lanciare messaggi di pace, domenica 24 novembre. Poi Tokyo, lunedì 25, per incontrare le vittime del triplice disastro che a Fukushima nel 2011 mise in ginocchio il paese. Non mancherà la suggestione dell'impatto con la tradizione nipponica, prevista la visita all'imperatore Naruhito, mentre la chiesa giapponese attende l'appuntamento con i giovani e la messa al Tokyo Dome. Ultimo impegno, il giorno della partenza, nella Sofia University, l'Ateneo fondato dai Gesuiti, luogo di missione a lungo desiderato negli anni giovanili. Grazie. Grazie.